...una, chiaramente dall'Università dell'Arte, lui è appena rientrato, ce l'abbiamo qui questa sera, c'è una volta in America, è stato lì, dell'Università Ray Juan Carlos, ragazzi, una delle università più importanti della Spagna, ...una, come possiamo dire, dell'Università dell'Arte, e lui è stato ospite per una Master Class, pensate un po', è il nostro Fidel Sargezza, le nostre mie cutane, le perle, la bellissima Amanda, ma quanto, quanto c'è ad attornare Mari Pelle, ragazzi, eccola qui, fanno insieme una coppia vincente, ...applauso della nostra Mari Pelle, la nostra Amanda, e allora, allora, ragazzi, ci siamo tutti, non c'è due senza tre, non c'è due senza tre, eccola qui, la nostra terza parola, no, 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 non è possibile, allora, scusa, abbiamo la pionda, la mora, e poi, no, ecco la voglia di aprire, il ferro... ...scusa, bionda, moro, mora, e toro, no, non è possibile, basta, ragazzi, e allora, allora, fermiamoci un secondo, perché, ragazzi, sto per presentarvi il prossimo Vengard in latino, assolutamente da non perdere, ...e allora, guardate il max di schermo, ragazzi, c'è pronta già la prossima locandina, volevo dire che le locandine le preparo io, quindi complimenti a me, per me, non sto scherzando, sto scherzando, sto scherzando, voglio fare i complimenti a Sarceros, per questa bellissima locandina, e ancora non è finita, perché la settimana prossima, eccoci qui, ragazzi, venerdì 22, qui al Cialolte in America, avremo... ...Barbara Jimenez, i Cuban Flex, assolutamente da non perdere, e poi, volevo aggiungere, volevo aggiungere...